Voi potete anche allargare l'immagine, come in questo caso. Questa che zona è? Esatto, questa è la zona di Campo di Marte, infatti si riconosce la farmacia, c'è il bar, la galleria Valtiberina, è una zona abbastanza calda della città. Come vedete la risoluzione è abbastanza buona, ma non è il massimo. E questo è un esempio del fatto che l'amministrazione sta lavorando per migliorare la risoluzione, per consentire a noi di visualizzare meglio sia persone che veicoli. Sono praticamente inutilizzabili le immagini del videocontrollo a retino, quasi 80 occhi puntati sulla città ma devono indubbiamente aguzzare la vista. La bassa risoluzione delle immagini e la scarsa manutenzione impediscono sostanzialmente una identificazione di volti e targhe. La normativa è molto rigida, si sa, ma qui c'è un fattore tecnico all'origine del problema. A portarlo definitivamente alla luce è stato il vice sindaco di Arezzo Gianfrancesco Gamurrini con un post su Facebook riguardo la riunione svoltasi presso il comando della Polizia Municipale lo scorso 20 ottobre. La mancanza di personale è poi l'altro grosso problema. Nella centrale operativa spesso è solo un addetto a dover rispondere alle chiamate, controllare le telecamere e interagire con le pattuglie. Io sono un operatore di centrale, insieme a me ci sono altri due colleghi, siamo divisi in tre turni, 7-13, 13-19, 19-1. Sì, generalmente c'è un operatore solo e a volte siamo in due. La mattina soprattutto perché la mattina, diciamo, come orario è quello un po' più impegnativo. Dietro le mie spalle ci sono le telecamere della videosorveglianza, telecamere che sono in tutto il territorio comunale. Qui ne vediamo una parte e questi schermi ci sono quelli che si trovano più nel centro della città. Diciamo come attività nostra più che altro viene monitorato il traffico, comunque sono di aiuto nella dinamica degli incidenti stradali e le abbiamo usate diverse volte. I volti non è che sono molto riconoscibili, comunque ci sono servite, diciamo così. Il vice sindaco ha così impegnato circa 30.000 euro con una variazione di bilancio per comprare nuove telecamere e collegare quelle sistemate a Pratacce e San Zeno, quelle sì ad alta risoluzione ma scollegate dalla sala operativa. Alcune non sono funzionanti, ce n'è una buona percentuale fra un 20 e un 30% e quindi abbiamo pensato intanto in questo scorcio di fine anno di modernizzare l'impianto, di unificare tutto il sistema perché ci sono quattro sistemi all'interno del Comune di Arezzo, uno che copre la parte centrale e altri che coprono le parti periferiche che però non sono allacciati attualmente alla centrale. Quindi entro la fine dell'anno conto di unificare tutto e di modernizzare l'impianto esistente e poi dall'anno prossimo cominciamo con degli investimenti ulteriori per allargare la zona di copertura e quindi andare più nelle frazioni, nei parchi, nelle zone più a rischio.